Allora metti a fuoco, si cara ci siamo, metti la telecamera, come sto? Sei bellissima cara, allora si comincia, sono emozionata, questa è una puntata di Masterclass, è importantissima, eh si si vede un po' in letto Eh vabbè, questo ho di sfondo, ma anzi a proposito panchino, cosa c'è cara, perché non me lo togli? Ma no, dai, me lo togli il letto, oh si cara Un pochino ancora? Va bene così cara? Eh ma si nota ancora Perfetto Oh sei sicura? Sì caro, porta su anche quello, sta benissimo Ok, ci siamo, è uno studio un po' particolare, ma buongiorno a tutti e bentornati a MasterLol Sì, eh, vi dicevo, lo studio non è quello tradizionale, è un po' diverso, diciamo che sto girando a casa mia Ma come voi siete a casa, eh sto a casa anch'io, e sono a casa anche i nostri concorrenti e i nostri giudici E quindi ragazzi, la puntata di oggi sarà particolarissima, sarà una puntata MasterLol, io mi diverto a casa Vi spiego brevemente che cosa è successo, ci sono sempre i nostri giudici, ossia Molanciuolo Salve, benvenuti a tutti quanti, sono molto contento di questa puntata Perfetto, non ha detto ma, quindi non è esploso, tutto a posto E abbiamo ovviamente anche Peppa Arbieri Ma sì, ma certo, ci sono qui anch'io, perché volevate che non ci fossi Insomma, io sono qui, adesso non vedo l'ora di, fate, di giudicare un po' di mappassoni E abbiamo il nuovo giudice, la New Entry, ossia il nostro Locatellol Bene, ciao a tutti, mi raccomando, sono veramente contento che questa nuova edizione abbia potuto avere una rappresentazione Anche se da casa, sono veramente very very happy Ma colleghiamoci con le nostre concorrenti, via all'equip E cominciamo da Blind Queen Ok, non vedo l'ora di cominciare Benvenuta tra noi Grazie Hai già spedito il tuo piatto? Sì Non dirci niente, non dirci niente, vogliamo avere la sorpresa Adesso tra un po' vedremo che cosa hai combinato Ma erano ingredienti, dici soltanto Erano ingredienti semplici o hai trovato qualche difficoltà? Beh, un po' di difficoltà l'ho trovata però Poi è stato veramente una cavolata È stato semplicissimo Allora sicuramente il tuo piatto sarà un gran successo Grazie Non vedo l'ora di vedere cosa diranno i giudici O chissà quale giudice sarà capitato il tuo Lo scopriremo tra poco Solo a pensare il piatto Mi viene l'acquolina in bocca E allora siamo curiosissimi anche noi Ed ecco le altre due concorrenti Le nostre giapponesine Le LOL più kawaii che abbiamo E come è andata ragazze? Benissimo Molto bene, molto bene Abbiamo fatto un capolavoro Avete fatto un piatto orientale? Certo Oh, non vedo l'ora, guardate Piano di sushi Eh, a me manca tantissimo il sushi Ma è tanto che non lo mangio Perché sapete Devo stare a casa E quindi Facciamo così La prossima volta Sì Faccio il giudice anche io E lo spedite a me Ok Ecco, potrebbe essere un'idea Intanto il delivery è permesso Ok ragazzi Se sono curiosissima Chissà quale giudice Avrà ricevuto il vostro piatto Lo sapremo tra pochissimo Adesso ci colleghiamo Con l'altra concorrente A dopo ragazze Arigato E veniamo al collegamento Con colei che ha organizzato tutto La nostra Alice Oh, grazie, grazie Minumale Qualcuno che mi rende merito Delle cose che faccio Sembra sempre la solita svantita No, no Alice Siamo felicissime Che tu abbia voluto partecipare E... Ma tu hai preparato il tuo piatto? Ops Veramente no Mi sono dimenticata Eh, dovrevi spedirlo Hai ragione Lo faccio al volo Mentre voi continuate a chiacchierare A dire cose inutili Ma no, Alice Eh sì, scusate Non mi preoccupate Mi sbrighierò Ok, va bene Che cosa ci farai? Stavo pensando A una torta di mele Tra l'altro Alice Lasciatelo dire Che cosa devo sentirmi dire Lollina? Hai una casetta meravigliosa? Grazie È tanto carina la mia casina E hai anche Una bellissima cucina Eh sì, lo so Ma questa è la cucina per tutti i giorni In che senso? Non cucinerai lì? Ma stiamo scherzando Tutti La stanno aspettando Io non potrei cucinare Se non In lei Cioè con lei Cioè Con la cucinetta impazzita Ah Vado 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 Schiaccio 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 Vai Alice Falla partire Eh Alice Eh cosa c'è? Ha finito Ah davvero? Uh Ha già finito Già cotta la mia torta Che bello Bene Alice Adesso dovresti mettere Le tue cose Dentro una scatola E spedirla Fatto Wow brava Eh che cosa Mi prendevi Per una svampita Sì Eh grazie Bene Le dovrebbe arrivare Un pacco Con Il Piatto La mystery box Di una delle nostre concorrenti Oh ecco Chissà quale Mi arriverà Ecco il pacco Lo sto vedendo arrivare Bene Non mi vedo più io Un po' più avanti Che se no Ho già su un passino Scusa grassi Ok Bene Perfetto Ok Boh bene L'ho già decontaminato L'ho già aperto Così facevo prima Dopo insomma Ho capito E insomma Bisogna stare un pochino Attenti adesso E soprattutto Tenere tutto Bello pulito Oh ecco Adesso L'ho aperto Adesso ci guardo dentro Chissà che piatto È questo Che ansia Sarà il mio piatto Sarà il nostro Ah chissà Che piatto sarà Guarda Chissà Se è il mio Attimi di suspense Per vedere il contenuto Di questa mystery box Ma Noto qualcosa Ma Giudice Pepparbiere Tutto a posto Ma sì Ma sì Un attimino Che è un po' pesantino Questo piatto Ma che è un mappassonissimo Ma quanto pesa Un attimo E ce la posso Ah Ostia che male Non vedo Non c'è un problema Però E quale sarebbe Che non vedo più il piatto Cioè mi sono girato Ma è tutto buio Io non vedo il piatto Eh no Il piatto è fuori Oh Veramente Sì Tolga la scatola Ah Ok Ah Finalmente adesso ci vedo Ok Guardate che bello Oh ma è sushi È sushi Questo è un sushi Oh È il nostro È il nostro piatto Oh Non è il mio Ah Fiu Cominciamo da quello delle altre Meno male Era un po' preoccupata Allora Guardiamo bene attentamente Questo piatto È un piatto In forma di piatto Dentro ci sono Dei maki Poi ci sono anche Dei nigiri Eh però ragazzi È un pochino Ma passone Saranno Sette Ottocento Chili di pesce Insomma Mi sembra Un pochino Tantino Avrei gradito Di più Magari una porzione Un pochino Meno Aggressive Un pochino Meno Un pochino Meno Un pochino Meno Però lo andiamo Ad assaggiare Tutto buono Eh ma qui Cosa vedo Cioè Ragazzi Notate anche voi Dei puntini sporchi Sul salmone Ops Che cosa sta succedendo Eh Vorrei chiedere Alle partecipanti Alle concorrenti Ma prima di cucinare Questa roba Vi siete lavati bene Le mani Oh Ops Io mi sono dimenticata Eh no eh Queste cose In questo periodo Ma stiamo scherzando Mi dispiace Il piatto era buono Però insomma Manca il lato igienico Che in questo momento Non va tanto bene Bisogna lavarsi Le mani bene Destra Con la sinistra Ecco Come dice Questa qua Illuminata qui Sinistra Con la destra Eh vabbè Abbiamo capito eh Non è che adesso Dobbiamo capire Tutto e con Ci devi raccontare Tutte le tue mani Tutte le volte E soprattutto Eh dai Dillo Col cuore Ehi ma ben Ok comunque Benino Ma non benissimo Eh Peppar Bieri Per questa nuova modalità Di gioco Abbiamo studiato Una votazione Quindi deve dare un voto Dall'1 al 10 A questo piatto E io direi che guardi Avrei dato 9 Perché insomma Era buono Però il fatto che Ma passone Ci dava 8 Il fatto che Non si sono lavate le mani Dobbiamo purtroppo Andare a 5 Bene Questo è il mio voto Bene È entrato Un piattino colorato Adesso aspettiamo Che arrivi il piatto È Bolancuolo È Dimmi Lollina È Tem È quello il piatto È Cosa È sì È quello il piatto Ma che cosa Doveva essere Gelato Come gelato Ma lo hai spedito Sì Credevo che Funzionasse il mio piano Ma è arrivato Ma assolutamente È arrivato Tutto sciolto A che gusto era Era Fragola Pane Prosciutto Hamburger Pollo Eh Ma cosa Ma 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 Veramente Hai appena detto Ma Cosa L'ho detto Eh sì Ma Vabbè Continuo io È una schifezza Questo piatto vale 2 Ma Non ci ho pensato Mi dispiace Eh vabbè Capita Succede un po' a tutti È una puntata un po' strana Questa Dite che torna Ah Io a questo piatto Darei Un 2 Mi dispiace Ma insomma Era un po' una ciofeca Oh Eccomi qua E questo è arrivato Quindi a me Ed penso che sia L'ultimo piatto Quello di Alice Quindi che cosa ci dovrebbe essere in questo piatto È una torta di mele Ah Molto bella L'impiattamento è delizioso Molto bello Di alto livello Adesso procediamo con l'assaggio Mmm Very good Veramente buono Brava Fantastico livello Veramente eccellente Io non posso che dare 9 A questo piatto Veramente buono Eh Penso che Alice Si sia Aggiudicata Questa puntata Di Master LOL Ma si ragazzi Divertiti anche voi E spero di potete fare altre puntate Vero Non è che vi dimenticate ancora di me Per altri 100.000 anni Eh No No Alice Continueremo a fare Master LOL Oh che bello Grazie Sono contentissima Grazie mille Iscrivetevi a questo canale bellissimo Perché ci sono io E anche Noi E anche questa qua Che tiene il telefono e parla Vabbè Anche lei Capitela dai Si grazie Di aver visto questa puntata Iscrivetevi al canale Un bacio a tutti quanti Ciao Ciao